Buonasera Marika, innanzitutto complimenti per una vittoria che non è mai stata messa in discussione perché non ho mai visto momenti in cui avete avuto difficoltà. È stata una partita iniziata bene, continuata bene, ci avete messo del vostro in battuta perché avete potuto molto bene, ma direi avete superato l'esame nel migliore dei modi. Sì, questi tre punti erano importantissimi perché comunque venivamo da diverse partite non giocate al massimo e le avevamo pure perse. Ricominciare soprattutto in casa con questo pubblico che ci ha aiutato tanto è stato importantissimo, infatti siamo state anche concentrate dall'inizio della partita fino alla fine e soprattutto il secondo set è che noi di solito facciamo fatica a ripartire, siamo partite alla grande. Ma bisogna anche ricordare che vi manca una giocatrice importante insomma. Sì, ci manca Bausch, però piano piano ci stiamo integrando pure senza di lei e non dico che non sia importante per la squadra, anzi assolutamente, però è anche bello vedere che quando manca una giocatrice sei capace di saperla. Questa sera con tutto rispetto le due piccoline, Begic, hanno fatto la differenza, mi vedete che è stata una gran partita. Sì, sono state bravissime, infatti Begic ha preso pure il premio miglior giocatrice, assolutamente meritato e anche lei si è ripresa da un infortunio abbastanza importante. Ecco, comunque state recuperando quel terreno perso magari all'andata anche per un calendario che non è stato molto favorevole più in voi. Eh no, abbiamo ancora il riposo da fare, quindi in queste ultime partite dobbiamo assolutamente prendere più punti possibili. Grazie mille. Ciao.